Grazie a tutti voi, perché insomma anche quando si va così lontano, anche con una responsabilità così grande, fa piacere portarsi un pezzo dell'esperienza che abbiamo fatto con voi genitori. Ieri sera l'ex vice sindaco e assessora alle politiche sociali del Comune di Como, ora ministro alle disabilità e alla famiglia del Governo gialloverde, Alessandra Locatelli, ha preso congedo dagli ex colleghi del Consiglio Comunale, un discorso breve e in cui non è mancato qualche momento di commozione. Con qualcuno è stato un cammino dibattuto, con qualcun altro sono spesso andata d'accordo, ha spiegato il ministro Locatelli. È stata un'esperienza importante per la mia vita e mi ha insegnato come gestire e affrontare le questioni che mi attendono ora a Roma. Poi ha concluso. Adesso non mi puoi raccontare, inizia una nuova avventura e io vi ringrazio del Comune di Como. Grazie. Un applauso seguito poi da una breve dichiarazione del sindaco di Como, Mario Landrescina, che ha ribadito la grande soddisfazione per la nomina di Alessandra Locatelli a ministro. Sicuramente a terra alto il nome del territorio, ha detto il primo cittadino, all'ex vice sindaco e al ministro tutti noi saremo vicini in questo importante cammino che si appresta a fare per far crescere il paese e sono certo ne sarà all'altezza. Grazie.